cari telespettatori buongiorno siamo di nuovo in onda su irispress tv irina tirdea per voi lezioni di stile così come vi abbiamo annunciato da da ieri siamo oggi qui con la nostra invitata d'onore la ducessa a breve consuela di monaco direttamente dalla romania dalla transilvania che appena è andato in diretta giusto consuela con antena stars direttamente in romania e ovviamente vogliamo trasmettere il messaggio anche verso il pubblico e i tuoi fan anche qui in in italia innanzitutto cosa implica questo titolo di di ducessa consegna se ci puoi spiegare diciamo che praticamente queste case casati reali come si chiamano in italia ti danno questi titoli praticamente titoli nobiliari se tu ti distingui come persona c'è per meriti speciali a parte che io ho qualcosa nel sangue del nobile però in italia diciamo che i nobili si sono un po' persi però io ho iniziato da anni fare dei progetti cioè occuparmi dei bambini quelli che vivono nei orfanotropi della gente che ha bisogno perché avevo fatto questi concorsi internazionali di bellezza ci hanno preparato se per caso speriamo di noi inizia la guerra come fare ad aiutare altre persone ed essere lì per accudirli nel caso che si trovano in difficoltà e avendo un diciamo un background così alle spalle ho ricevuto questi titoli innanzitutto ho ricevuto il titolo di contessa anni fa ho ricevuto una bellissima corona in un bellissimo castello palazzo tipo come nella favola ecco mi sentivo una principessa è perché ormai ho un nome di una persona buona una persona amorevole verso gli altri una persona sensibile molto altruista dopo due anni adesso ricevo il titolo di duchessa e che sicuramente sarà a breve cioè manca un po di mesi a settembre in un altro palazzo monastero reale una cosa del genere lo sappiamo già anche il paese a pistoia si a pistoia poi diventerò duchessa e mi manca un po spero di diventare anche principessa perché noi la gente l'auguriamo intanto tu sei la nostra principessa del nostro red carpet qui a milano nella dubai e by music innanzitutto e anche della nostra redazione di spresti vu ti ringraziamo veramente per che ci hai fatto l'onore di essere partecipe con noi in questa grande settimana della moda che oggi si conclude ovviamente vogliamo lasciare un messaggio in particolare a innanzitutto a quelle che desiderano avere questo proseguire questo questa tua carriera questa bellissima carriera con sola che il segreto è di non volare mai perché noi viviamo tempi difficili come si sa come viviamo ogni giorno però quando ti sembra che non ce la fai più devi proprio lì darti un'altra mossa e dire ci riuscirò però il segreto è l'amore per il prossimo altrimenti non riuscirai ad avere successo non riuscirai ad essere apprezzata dalle persone le persone percepiscono se sei sensibile se sei amorevole e per questo prima o poi sarai ripagata quindi puoi arrivare a questi livelli che io ho raggiunti vabbè con tanto lavoro tanto fatica ma tutto si raggiunge in positivo ovviamente l'obiettivo se c'è un lavoro sotto dietro le persone ti percepiscono se sei reale se sei sincero trasmetti questa emozione e ti valorizzano per la persona che sei è molto giusto noi condividiamo qui in Iris Press TV innanzitutto questa definizione mettiamola così dello stile del buon tono del buon senso e ecco che si può arrivare anche duchessa nel 2019 e a breve noi pensiamo che sarà anche principessa noi lo auguriamo per voi è stato Irina Tirdea lezioni di stile Iris Press TV state con noi a presto ciao